Allora siamo qui con Platone degli atleti con Napoli nella sfida che stanno perdendo per 3-0 contro la Dinamo Pausa diciamo mentre i ragazzi hanno iniziato da poco il secondo tempo Cosa puoi dirci intorno al primo? Come è andata? Cosa non è andato anzi nella tua squadra? Siamo stati un po' sfortunati perché abbiamo avuto molte occasioni davanti alla porta Tutto di testa, però non abbiamo potuto sfruttarle, invece loro hanno fatto 5 tiri e 3 gulla Perfetto, invece per questa ripresa entrerai tra un poco carico, quali sono le idee che puoi portare in mezzo al campo? Speriamo bene perché penso che gioco al centrocampo, credo Va bene, grazie Ciao